Come hai avuto un po' più vecchio? Sono arrivato giovane, sono tornato un po' più vecchio, ma praticamente la metà della mia carriera sportiva l'ho fatto a Rovigo. Veramente il rapporto con la gente che ho sempre avuto è stato molto buono, mi sono sempre sentito a casa. Rovigo mi ha portato a giocare in nazionale italiana, Rovigo mi ha portato a rilanciarmi per giocare in un campionato come la Celtic. Ringrazio tanto Rovigo che mi ha dato, ho imparato tantissimo e quando vengo qui mi sento a casa e così è nata una delle mie figlie qua. Ci tengo molto per la madre Rovigo. Se Rovigo mi chiama mi piacerebbe tantissimo venire perché sempre la voglia di venire a Rovigo ce l'ho, ma non venire a fare le vacanze come sempre. Voglio sempre confrontarmi e giocare nel quindici, non fare le vacanze. Perché sono arrivato in Italia mai mi sono piaciuti i turisti in squadra. Noi argentini siamo abbastanza caldi, giochiamo con il cuore e devo essere sincero e umile che credo che quella è la differenza che abbiamo. Che quando andiamo in campo lasciamo tutto, forse hai male, forse hai infortuni. Tanti che hanno un po' male forse vanno fuori o preferiscono gestirsi. Noi andiamo avanti e veramente abbiamo un attaccamento alla maglia importante. Dopo i tanti anni che sono stati bellissimi qua a Rovigo, quello si sente. Dall'inizio ci siamo trovati benissimi. Ho fatto il primo allenamento, mi sembrava aver giocato con tutti i ragazzi da tutta la vita per come mi hanno aperto le porte nella sua casa. Il primo derby credo che lo abbiamo fatto a Padova e lì ho capito che a Rovigo c'era una marcia in più. Una marcia in più, la gente era molto diversa a Padovani, era molto diversa. Io mi sento di vestire la maglia di Rovigo come uno che è nato qua a Rovigo. Magari altre persone non lo sentivano così, però sentire un allenatore che ti dica che questa maglia, meritate questa maglia, sudate questa maglia, lottate per questa maglia. È una grossa pressione, è pesante, è pesante. Poi si sente. Quando entra in campo la gente qua a Rovigo è una... raccontarlo e viverlo è diverso. ... ... ...